Nessun tentativo di violenza sessuale. Martina Rossi, quando cadde dal balcone, non stava scappando da un'aggressione. Questa la linea difensiva ripetuta questa mattina in corte d'appello a Firenze dai legali di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due imputati per la morte della studentessa genovese precipitata da un terrazzo al sesto piano dell'hotel di Sant'Anna di Palma di Mallorca, all'alba del 3 agosto 2011. Con la ringa di entrambi i difensori che hanno chiesto l'assoluzione per i propri assistiti, si è così chiusa l'udienza di oggi del processo di appello bis. La sentenza adesso è attesa per il 28 aprile, data in cui entrambi gli accusati, sempre presenti in aula nel corso delle udienze, potrebbero rilasciare dichiarazioni spontanee prima che la corte si ritiri in camera di consiglio. Presenti in aula, come sempre, anche i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, accolti al loro arrivo da un presidio di non una di meno che ha mostrato striscioni con su scritto «Lo stupro non si assolve». Nella precedente udienza, il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto di condannare entrambi a tre anni di carcere per tentata violenza sessuale di gruppo. La nuova sentenza d'appello è prevista dunque per il prossimo 28 aprile. I due imputati avevano anche presentato nelle scorse settimane istanza di ricusazione nei confronti del presidente della corte Alessandro Nencini, che è stata rigettata dalla corte d'appello. I due ragazzi di Castiglion-Fibocchi erano stati condannati in primo grado nel 2018 a sei anni ciascuno per i reati di tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato. Dopo due anni, nel 2020, la caduta del reato più pesante, quello di morte in conseguenza di altro reato per avvenuta prescrizione e poi l'assoluzione in appello da entrambi i capi di imputazione. Decisione bocciata tre mesi fa dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo d'appello a Firenze. Adesso la corsa contro il tempo. L'orologio della giustizia per l'unico capo di imputazione rimasto in piedi scatterà infatti il prossimo ottobre.